Nel fine settimana il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Salerno senza risparmiare il Vallo di Diano che ancora una volta ha dovuto fare i conti con l'esondazione del fiume Tanagro. La situazione più critica si è verificata a Polla dove il fiume è esondato allagando diverse abitazioni poste sui margini. Scantinati e terreni sotto l'acqua ma fortunatamente non è stato necessario emettere ordinanza di evacuazione per le abitazioni. Sul posto a vigilare su quanto stava accadendo il sindaco di Polla Massimo Loviso e l'amministrazione comunale per le verifiche effettuate grazie anche al supporto dei volontari della protezione civile e agli agenti della Polizia Municipale tutt'ora impegnati nel monitoraggio dell'area. Una situazione piuttosto grave è quella che si è presentata nella tarda serata di ieri a Polla con il fiume che ha superato il limite di sicurezza fino a esondare. Solo intorno alle ore 2 di notte il livello si è abbassato di circa 80 centimetri raggiungendo una situazione di relativa tranquillità seppur il monitoraggio è proseguito per tutta la notte. Diverse le ordinanze di chiusura di strade emesse dal sindaco Loviso. Transito vietato su via Campi e via Pantano, aree maggiormente interessate dalle sondazioni. Ordinanza di chiusura anche per la strada che dal centro di Polla conduce alla zona industriale e per via Cristo Re e località a Setone, mentre il sindaco è stato in costante contatto con il centro operativo della protezione civile regionale ed in particolare con i referenti del centro polifunzionale in una notte di rischi e pericoli a causa delle intense piogge. Pericoli che si sono registrati anche a Sassano, dove la provincia di Salerno ha emesso ordinanza di chiusura della SP11 nel tratto di Ponte Cappuccini con l'innesto di via Canneto nel pomeriggio di ieri, incaricando i volontari dell'Associazione Orchidea e Emergenza di effettuare il monitoraggio dell'aria visto il deciso aumento del livello dell'acqua che ha portato il fiume a raggiungere il punto più alto di Ponte Cappuccini con forte rischio di straripamento. Situazione rischiosa anche in località Cagliazzano con il tratto di strada che collega Sassano a Padula che è stato chiuso al transito. Sul posto anche i tecnici del Consorzio di Bonifica per monitorare la situazione e valutare eventuali interventi. Nella mattinata di oggi poi si è verificata la rottura di un argine del Tanagro nel punto tra Cagliazzano e Silla di Sassano. I tecnici del Consorzio di Bonifica sono sul posto in attesa di poter intervenire per valutare eventuali operazioni di messa in sicurezza, seppur le condizioni meteo in questo momento non consentono di operare, data anche la poca stabilità dei terreni dovuta all'intensa pioggia. Grazie. 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 Grazie.